Siamo con la professoressa Leopoldina Fortunati che ci spiegherà chi è Doro e questa novità all'interno dell'inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017. Allora, Doro è un robot semi-automatico che viene dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed è stato creato all'interno di un progetto europeo, Roboterra, diretto dall'ingegner Filippo Cavallo che è qui con noi oggi. La novità consiste nel fatto di cominciare a introdurre il robot negli spazi pubblici. Allora, uno spazio pubblico privilegiato è la cerimonia dell'inaugurazione dell'anno accademico. Questa inaugurazione è molto importante, secondo me, perché è la prima da quando l'università italiana è stata fondata a vedere, ad avvalersi di un robot per la sua cerimonia di apertura. Qual è la particolarità di questo robot rispetto ad altri che magari possono già essere conosciuti? Un'interazione particolare con l'uomo? Beh, diciamo che è uno dei robot più avanzati esistenti oggi in Europa e quindi noi siamo molto orgogliosi, molto contenti di poterlo avere qui con noi oggi. Ci può dire che cosa succederà? Ci sarà anche uno scambio di parole con il Rettore? Certo, ci sarà un breve scambio di battute tra Doro e il Rettore e il Rettore porterà al Rettore la prolusione che poi il Rettore leggerà come ogni anno e questa è una cosa molto interessante, insomma non si era mai data e noi l'abbiamo introdotta come elemento di novità all'interno della cerimonia dell'inaugurazione dell'anno accademico. Siamo con l'ingegnere Filippo Cavallo che coordina questo progetto, ci vuole spiegare brevemente quindi chi sono gli attori coinvolti e di che cosa si tratta? Dunque, Robotera è stato un progetto con l'obiettivo di realizzare delle soluzioni robotiche per l'assistenza agli anziani, quindi di fatto noi abbiamo realizzato, progettato e poi realizzato tre robot che possono cooperare tra di loro e sono tre robot che lavorano sia a livello domestico come quello che vediamo oggi durante la cerimonia un altro robot che lavora in un ambiente esterno, quindi per strada e un altro robot che lavora nel mezzo, quindi per esempio nei condomini oppure negli spazi comuni e interni. Questi tre robot possono cooperare insieme a delle infrastrutture di intelligenza, di sensori intelligenti e quindi fornire servizi agli anziani e fornire servizi anche a tutto il sistema socio-sanitario sostanzialmente. Questa tra l'altro è una settimana particolare per quanto riguarda anche i robot sociali e ci sono dei progetti anche molto innovativi che l'Italia sta portando avanti. Sì, a livello italiano infortunatamente non siamo tra i leader proprio a livello mondiale sul discorso di robotica sociale. Ci sono diversi progetti europei che sono stati finanziati in passato e noi stessi nel prossimo mese partiremo con un nuovo progetto di robotica sociale per assistenza in collaborazione col Giappone. Quindi di fatto abbiamo tante possibilità di sviluppare cose importanti a livello di ricerca ma poi anche di applicazioni e di impatto sul territorio.